È il momento di parlare dei film di questa settimana No, della mia rubricona Ah no, è vero, la rubrica, me la stavo perdendo Adesso la rubrica, ti do il titolo Il titolo della tua rubrica D'ora in avanti sarà Attenzione Allora, è un titolo cinefilo È un titolo che racconta la follia di questa rubrica Che mette insieme animali, Hollywood e film Citazionista, Animal House Che bello Mentre prima come era? Hollywood Zoo Animal House ci sta Animal House mi piace Animal House mi piace, approvata Perché sì, sì Racconta come l'hai detto Allora, per la terza edizione della mia rubrica Sono super curioso Allora, c'è qua tutto Di cosa si parla? Allora, il titolo lo do dopo È Un dramedy Un dramedy, quindi un po' commedia Convolgente che esplora il confine tra natura e umanità Ok, c'è un tema Bene I bonobo I bonobo sono quelle scimmie un po' strane, no? Considerati i primiati più promiscui Ah, pasticcioni Eh sì, perché i bonobo hanno una vita sessuale molto attiva Loro utilizzano il sesso come mezzo per risolvere i conflitti, stabilire legami sociali e favorire la coesione del gruppo Lo usano, è una delle poche specie oltre a noi che usano il sesso per divertimento, ma loro lo usano anche proprio per redimere e riappacificare gruppi Ma i bonobo, ora per la precisione, sono simili agli scimpanzee? Sì, più o meno sì Ok, però sono belli muscolosi, sono super fisicati Esatto E il sesso tra l'altro tra i bonoboi può coinvolgere diverse combinazioni di maschi e femmine Possono praticare sia l'eterosessualità e l'omosessualità Hai capito Titolo del film Ho paura No, no, no Bonobo Legacy Bonobo Legacy Sul titolo potevi fare meglio Però vediamo Ok, avevo pensato anche Bonobo Bones Il legame dei Bonobo Bones Bonobo Bones Vabbè Bonobo Enco Bonobo Ma devi sentire poi la storia, il plot È un dramme di fantascienza Io avevo, avevo, c'ho due registi che avevo pensato per questo film Ok, vediamo di scritturarli Eh sì, perché così capisci proprio il mood che vorrei dare a questo film Che è Ruben Ostlund o Yorgos Lanthimos Ah Bisogna scegliere uno dei due Ostlund potrebbe essere la mia prima scelta Allora, siamo in Repubblica Democratica del Congo Ma è tipo, questo è tipo un piccio, io sono il produttore e tu mi stai a vedere Facciamola così Siamo in Repubblica Democratica del Congo Foresta fuori Kinshasa, che è la capitale Ok Jane, che è Jennifer Lawrence È una primatologa appassionata e idealista Scopre una tribù di Bonobo che si scontra con l'urbanizzazione in aumento Ah Tra l'altro io Jane, il nome glielo ho dato in onore di Jane Morris Goodall Che è la primissima scienziata e primatologa che ha studiato i primati È famosissima, è importante, eccetera Non per Iotharzon su Jane No, no, non per quello Scopre una tribù di Bonobo che si scontra con l'urbanizzazione in aumento Samuel John David Washington Ah È un ecologista locale L'aiuta nella sua missione di proteggere i Bonobo Tra l'altro l'ho chiamato Samuel perché significa colui che è stato ascoltato da Dio e poi capirete perché Perché se Dio di stesse, credo, voglia la pace nel mondo, no? Ok, anche per i Bonobo Non solo Loro cosa fanno? Loro indagano le dinamiche complesse della sessualità di questi primati e il ruolo che svolge nel mantenimento della pace e dell'equilibrio tra il gruppo Ok Quindi ricordati che è da Ostlund, la regia, è un drame, eccetera Cosa succede? Che aiutati da un genio della genetica, WP Goldberg Ah E da un climatologo che ha passato una vita a studiare le nuvole, Steve Buscemi Bello Che cast Sintetizzano un virus che viene chiamato M-L-N-W Make love, not war Ah, ok I due riescono così a favorire e a divulgare i comportamenti dei Bonobo anche agli umani Diffondendo il virus a livello locale e poi mondiale, attraverso le nuvole arriva il virus Le scie chimiche Esatto, arriva in tutto il mondo E il film si conclude con una scena corale nelle aree di maggior conflitto sul pianeta Parte I got a feeling Ah, ecco Ok, esatto Dei Blake Repies Visualizzate, immaginatevi la canzone E nemici dichiarati, questa scena corale del film Nemici dichiarati, anziché spararsi e combattersi, fanno sesso Immaginatevi i rapporti sessuali tra un israeliano e un palestinese Tra una cinese e un tibetano Tra Putin e Zelensky Tra Giorgia Meloni e Ellie Schlein Giorgia Meloni È pazzesco Esatto Un drame di coinvolgente che esplora il confine tra natura e umanità Viva i Bonobo Esatto I got a feeling Perché tra l'altro il produttore e creatore dei Black Eyed Peas Aveva detto, testuale, è la canzone che mi fa venire voglia di scaricare il mio stress Quindi è perfetto Immagino questa scena corale Immagino già il trailer Adesso createci il trailer di Bonobo Bones o Bonobo Legacy Bonobo, vabbè, i Bonobo sono tutti interpretati da Andy Serkis Eh sì, quello sì, ci sta Ci sta Tutto torna Tutto torna Allora Tra l'altro se tu avevi visto Sì, te lo possiamo produrre Di Robert Othlund The Square l'avevi vista? No, no, ce l'ho in lista Non hai presente quella scena famosa del Quindi del Che ha girato molto di questo film In cui c'è un Artista che fa la performance Sul tavolo da pranzo Esatto Vabbè, la locandina Guardalo No, ce l'ho in lista Othlund mi piace molto Approvato, dai Questo nuovo episodio Sì, dobbiamo lavorare sul titolo Perché non mi convince ancora Aiutateci a trovare il titolo Nei commenti Aiutateci a trovare il titolo